Ciao, Internet, buon mercoledì! Siete a metà del guado, da qui in poi è in discesa, quindi ricordatevi che la settimana del qui in poi è solo in discesa. E per continuare bene la settimana, ho una proposta di programma che voglio farvi seguire. Non è uno spottone, ve lo dico prima, non c'è qua scritto sopra di per un unico motivo, perché non è advertising, semplicemente è un nuovo sforzo di un caro, caro amico. Lui è Oscar di Montigny, ve ne avevo già parlato perché ha pubblicato un libro, Il Tempo dei Nuovi Eroi, un libro che vi avevo detto di leggere, perché racconta dodici incontri con persone straordinarie e con persone che hanno migliorato se stessi in prima e hanno tentato di fare qualcosa per il bene di quel termine strano che è l'umanità. Bene, il libro si trasforma e diventa un programma radiofonico e televisivo. Il titolo è lo stesso, Il Tempo dei Nuovi Eroi, e da questo mercoledì lo trovate in audio su Radio Italia alle 22, per una serie di mercoledì, e in video in un teatro allestito per l'occasione, con l'ospite alle 22.20 il Giovedì. Che cosa è il format? Beh, sono incontri con altre persone straordinarie, persone che vanno dall'arte alle neuroscienze, per approfondire i temi che possono servire per portare avanti l'umanità stessa. Sono, diciamo che è un tuffo all'interno di un modo diverso di pensare, il tuffo all'interno di una concezione diversa di vivere la propria vita, che io personalmente vi consiglio tanto. Lo so, lo so, sono parziale, Oscar è un carissimo amico, ma vi vedrete che le persone che incontra, indipendentemente dal fatto che Oscar vi piaccia o non vi piaccia, meritano anche solo loro per sentirle ascoltare tutta la vostra attenzione. Quindi, se non avete ancora comprato il libro, ricompratelo, Il Tempo dei Nuovi Eroi, tra l'altro è anche appena stato ristampato nei bestseller Oscar di Mondadori, mentre, invece, vi raccomando di seguire Oscar nel programma radiofonico e televisivo, tra lo stesso nome, Il Tempo dei Nuovi Eroi, che è il mercoledì alle 22 su Radio Italia e il giovedì alle 22.20 su Radio Italia televisione, il canale televisivo del digitale terrestre di Radio Italia. Con questo è tutto, poi, mi raccomando, raccontatemi, qui sotto, o ancora meglio, nella pagina di Oscar di Facebook, cosa ne pensate e cosa pensate sul programma. Tutto qui, vi ricordo, bravi e siete sopravvissuti alla metà del guado della settimana, io vi saluto, ci vediamo domani con un altro video, mi chiamo Matteo Flora, vi faccio compagnia cinque giorni alla settimana raccontandovi di come la rete ci cambia, se non vi siete ancora iscritti, questo è il momento giusto per farlo e, come sempre, grazie mille per avermi ascoltato e gli state parati. Grazie mille per avermi ascoltato e